Io parlo in italiolo perché faccio la mescola di italiano e spagnolo e così ci capisciamo tutti. Pirata, pirata, pirata sempre. Tutto quello illegale, quello che non si può fare, sempre tengo il bisogno di fare quello che non si può. Certo che è un mondo difficile, però io tengo la facilità, la fortuna di fare più felice a altri, quando sono le robe un po' peggio. Io sempre scrivo in il bar o in il mare sul vendiero o bebendo una coppa al chiringuito. Quando sono felice io è perché il pubblico è troppo felice, più che io, non è dubbio. Mi capisci, no? Sparo, sparo, sparo con il mio arte per fare felice alla gente e dopo ritorno a questa onda per fare come la radio, per farmi felice a me. Quando tu fai uno spettacolo, se mi vedi il sorriso è perché il sorriso si vede a loro, a tutti loro, all'altra gente. Posso morire al momento che muro felice. più che fare l'amore, un orgasmo è il fine di una canzone, una canzone è come una vita. è un mondo difficile. Devo dire una roba, tutti amici che mi aspettano al inferno, solo una persona che è Don Galo, che tiene guadagnato il cielo anche peccatori come io che mi diceva Torino delincuente. Lui mi dava la grappa, io le dava il cigarro e non so dove ci incontriamo, però siamo qui. Ostia. E' 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 Grazie a tutti